Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che torniamo ad aprire con la cronaca giudiziaria. L'ospedale Vietri di Larino non poteva diventare Centro Covid ne è convinta la procura della Repubblica di Campobasso in relazione a un esposto che era stato presentato da comitati ed enti per denunciare la disorganizzazione e la cattiva gestione della fase pandemica. La stessa procura dunque ha chiesto l'archiviazione e allora sentiamo in apertura Anna Maria Di Matteo. L'emergenza Covid ormai alle spalle ma ha lasciato dietro di sé vittime strascichi giudiziari riferite alla gestione della pandemia in Molise. L'ospedale Cardarelli di Campobasso, unico centro Covid della regione, era ormai al collasso. Molti pazienti venivano trasferiti in elicottero negli ospedali delle regioni confinanti. Veniva anche allestito un modulo prefabbricato per aumentare i posti un caos in Molise non diverso da quello generatosi nelle altre regioni. Gli esposti tuttavia fioccavano e tra quelli c'era anche uno presentato da enti locali e da comitati che in sostanza denunciava la mancata trasformazione dell'ospedale Vietri di Larino in centro Covid che secondo i promotori dell'iniziativa giudiziaria avrebbe alleggerito la pressione sul Cardarelli. Una circostanza che secondo le denunce presentate avrebbe determinato la cattiva gestione sanitaria durante il picco della pandemia causa sempre secondo gli esposti presentati di decessi e dei cluster ospedalieri. Ma in queste ultime settimane l'intero puzzle si sta ricomponendo grazie al lavoro degli inquirenti, in particolare come riportato da un articolo pubblicato sul quotidiano online primo numero, secondo la procura della Repubblica di Campobasso destinatare dell'esposto il Vietri non poteva essere trasformato in centro Covid. Una posizione netta contenuta nella richiesta di archiviazione della stessa procura. Il sostituto procuratore Viviana Di Palma e il procuratore Nicola D'Angelo hanno spiegato come l'operazione non avrebbe sortito alcun effetto diverso da quello che purtroppo è accaduto. Secondo i magistrati le argomentazioni contenute nelle denunce erano sembrate anche condivisibili in un primo momento ma poi analizzando la situazione sono venuti alla conclusione che un'organizzazione del genere forse avrebbe consentito di gestire meglio il picco pandemico successivo verificatosi tra dicembre 2020 e marzo 2021 quando circolava la variante inglese particolarmente contagiosa ma nulla sarebbe cambiato in relazione ai tempi denunciati dall'esposto. Apriamo ora la pagina politica. Da Toma aspettiamo il ritiro del post e il confronto con la delegazione parlamentare e il consiglio regionale. L'alternativa è una forte azione politica che vada verso la mozione di sfiducia. A dirlo è il presidente del consiglio regionale Salvatore Micone sulla stessa lunghezza d'onda l'ex governatore Michele Iorio. Sentiamo Pasquale di Bello. Torna in cronaca il tema della mozione di sfiducia. Porlo è il presidente del consiglio regionale Salvatore Micone che insieme all'ex governatore Iorio e ai consiglieri Cefaratti e Romagnuolo ha chiesto al commissario Toma il ritiro della proposta di piano operativo sanitario inoltrata ai ministeri. Qualora non accadesse dice Micone a chiare lettere andremo verso la mozione di sfiducia. Noi su questo aspetto non ci fermeremo perché? Perché riteniamo che la questione sanità e quindi in questo caso la questione del programma sanitario è al primo punto dell'agenda politica perché è una questione che anche oggi la delegazione parlamentare, ieri i candidati alla coalizione centrodestra lo hanno posto diciamo come un punto essenziale, fondamentale anche della campagna elettorale. Quindi noi andremo decisi su questa questione, faremo anche pressioni importanti sui partiti come sulla delegazione parlamentare. Quindi insieme a loro prenderemo anche le decisioni politiche in questo caso qualora il presidente Toma non dovesse procedere in tal senso. Il centrodestra deve dare queste risposte, ha preso un impegno, noi come consiglieri regionali vogliamo dare queste risposte, quindi non lo vogliamo fare a titolo personale, quindi non è che la mozione di sfiducia diventa una posizione di Salvatore Micone o di qualche altro consigliere, deve essere una posizione politica della coalizione di centrodestra, ma noi su questo entreremo decisi nel pretendere che il centrodestra possa prendere una decisione, quindi anche una decisione in tal senso. Sulla stessa lunghezza d'onda di Salvatore Micone anche l'ex governatore Michele Iorio. Noi siamo impegnati a trasformare quel posto in un documento che sia compatibile con gli interessi dei molisani. Se questa sensibilità Toma non dovesse averla sarebbe un fatto grave, non può rimanere a quel posto nonostante tutto e a dispetto dei molisani. Siccome riteniamo non solo noi, ma essendo in buona compagnia con tanti altri esponenti politici, oltre che associazioni, categorie, medici e quant'altro, credo che contro i molisani non si può governare. Insomma, e questa è la logica che ci porterebbe dritti dritti a una mozione di sfiducia. Calcolando i tempi necessari a presentare la mozione e gli eventuali adempimenti successivi, in caso di sfiducia si tornerebbe a votare a febbraio in concomitanza con la Regione Lazio. E intanto il Presidente della Regione, Commissario ad Acta Donato Toma, ha fatto sapere di aver chiesto alla neopremier Giorgia Meloni l'apertura di un tavolo politico nazionale sul tema della sanità in Molise. La richiesta di Toma prevede la partecipazione al tavolo del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, quello dell'Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti e degli affari regionali e autonomie, Roberto Calderoli. Toma è intervenuto anche sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio regionale. Micone parla a titolo personale e non può estendere all'intero centrodestra le proprie opinioni, ha detto il Governatore. Per coerenza, ha concluso, dovrebbe a questo punto dimettersi dalla carica che riveste. Intanto la conferenza dei capi gruppo regionali, presieduta proprio dal Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, ha calendarizzato per il prossimo giovedì 3 novembre la seduta monotematica dell'Assise dedicata al Piano Operativo Sanitario 2022-2024, a farne richiesta l'intero gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. La prossima seduta ordinaria del Consiglio è invece prevista per lunedì 7 novembre. Voltiamo pagina. Il Vice Presidente del Consiglio Comunale di Isernia, Giovan Carmine Mancini, si è scagliato contro il Sindaco Piero Castrataro definendo inadeguato il documento di integrazione del POS presentato dalla maggioranza. L'esponente di Fratelli d'Italia si è anche rivolto alla nuova delegazione parlamentare chiedendo l'impegno nella modifica del decreto Balduzzi. Sentiamo Enrico De Simone. Le proposte di modifica del nuovo POS presentate dalla maggioranza del Sindaco Piero Castrataro in Consiglio Comunale a Isernia hanno alimentato discussioni tra i consiglieri. Sul fronte della minoranza a intervenire è Giovan Carmine Mancini di Alleanza per il Futuro che, pur condividendo la richiesta di potenziamento del servizio di emodinamica dell'ospedale veneziale, reputa inadeguato il documento inviato al commissario Donato Toma dal primo cittadino Isernino. Inadeguato perché dice un sacco di fesserie, non fotografa la situazione reale della sanità molisana, nulla dice circa le cause. Scarica tutto sul commissario che ha un binario strettissimo è che lo deve eseguire perché deve eseguire la normativa vigente. Allora più capisco il documento, doveva essere di due parole, proviamo a tenere aperta l'emodinamica H24, sette giorni su sette e non accontentiamoci delle 12 ore. Questo è un discorso condivisibile che io condivido ma dire cose che non corrispondono alla realtà non appartiene alla mia natura. Il vice responsabile del Dipartimento Enti Locali di Fratelli d'Italia ha chiesto l'intervento della nuova delegazione parlamentare molisana affinché si possa lavorare a una modifica del decreto Balduzzi in modo da permettere al commissario Toma di operare in modo più efficace a tutela della salute dei cittadini. Intervenite, intervenite immediatamente anche nelle more del decreto Molise affinché riusciamo ad ottenere le opportune dereghe del decreto Balduzzi e poter disegnare una rete sanitaria degna di questo nome. Varato il governo Meloni, da qualche ora la partita della politica nazionale si è spostata sui sottosegretari. La lista è attesa in settimana ma intanto sono diverse le indiscrezioni. Sulle agenzie di stampa e sui quotidiani nazionali tra i nomi che vengono indicati tra i papabili ci sono anche quelli del coordinatore regionale della Lega Michele Marone, quello del segretario nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa che è stato eletto in Molise. E ora torniamo a Isernia, bollette alla mano, tanti cittadini che hanno manifestato davanti alla Prefettura dove depositeranno le bollette di luce e gas. Si tratta di un atto di disobbedienza civile proposto dal comitato Io non pago che fa capo a Emilio Izzo. L'obiettivo è quello di chiedere alla Prefettura una mediazione tra cittadini e governo contro la speculazione energetica. C'era per noi Valeria Migliore. Noi vogliamo una bolletta pulita perché tutti quegli oneri sono un assurdo. Bollette alla mano diversi i cittadini che hanno manifestato davanti alla Prefettura di Isernia, tra loro anche il sindaco di Roccamandolfi Giacomo Lombardi e qualche commerciante. Le fatture di luce e gas verranno lasciate al Palazzo del Governo. Un atto di disobbedienza civile contro la speculazione energetica. È l'ultima mossa forse del comitato Io non pago che fa capo a Emilio Izzo, nato un mese fa come forma di ribellione ai costi esorbitanti delle bollette. Probabilmente ci sarà una serrata dopo di questo, quindi terremo i motori caldi. Ma certamente la tappa davanti alla Prefettura ha un senso perché noi consegniamo le bollette a uno Stato che non è stato capace di frenare questa speculazione che non è più solo energetica a questo punto, perché basta farsi un giro della città e vedere che non si compra più e non è solo un fatto di luce e gas perché ormai su questo si sta speculando. E non c'è un controllo sulle speculazioni, quindi chi più del Governo, e non è questo di prima né questo dopo, sono tutti, ovviamente i governi per noi sono uguali. Il cittadino si rivolge al Governo nella misura in cui il Governo non è stato capace di fare quello che deve fare. L'obiettivo è quello di sollecitare tramite la Prefettura un dialogo tra i cittadini e il Governo centrale. La Prefettura deve fare quello che è un compito istituzionale, quello di essere a contatto con i cittadini e di essere da cerniera con il Governo e il rappresentante del Governo sul territorio. I cittadini sono qui, diranno al Prefetto che c'è qualche cosa che non torna e chiederemo di inoltrarre le nostre proteste al Governo. Restiamo a Isernia, mi sono sentita ingannata dal sindaco Piero Castrataro. Dovrebbero arrivare le scuse per avermi cacciata? A dirlo è l'ex assessore di Isernia, Francesca Scarabeo, che ha anche spiegato le ragioni della sua uscita dalla giunta comunale. Sentiamo ancora Enrico De Simone. Mi sono sentita ingannata, tradita, è stata una coltellata alle spalle. Dure le parole rivolte al sindaco di Isernia Piero Castrataro dall'ex assessore comunale Francesca Scarabeo, che in una conferenza stampa nella sede della provincia Pentra ha chiarito le motivazioni dietro l'uscita dalla giunta. È la cronistoria di una cacciata, quella che la senologa ha descritto, dagli inizi dell'amministrazione Castrataro fino ai recenti sviluppi. In cima alla lista dei malesseri della Scarabeo, l'assegnazione di deleghe alla sanità a Monche. Vedevo che praticamente io non avevo alcun ruolo, cioè ognuno faceva quello che voleva nell'ambito sanitario, non perché io impedissi ad altri di fare delle cose. Però io penso che se un assessore ha una delega, la delega deve essere piena e deve essere libera. Stare lì solo a vedere gli altri che entrano continuamente a gamba tesa nella tua delega non mi è sembrato una cosa molto corretta. Un mal di pancia che durava ormai da un anno quello della senologa, frutto a suo dire di continue indicazioni su cosa fare e come farlo, anche per quanto concerne i post sui social. La Scarabeo ha chiesto scusa ai suoi 279 elettori, ma al momento non esclude altri impegni per il futuro. Il fuoco della passione politica non smette mai di ardere, ha commentato. Ciò che l'ex assessore ha rigettato senza mezzi termini invece è l'ipotesi di opposizione esterna nei confronti di Castrataro. Non ci penso proprio, perché purtroppo quando uno subisce determinati atteggiamenti ha come reazione una profonda amarezza, per cui non ci penso proprio a fare proprio assolutamente nulla. E siamo all'andamento della pandemia in Molise con l'ultimo bollettino ASDREM che riporta 173 nuovi contagi su 608 tamponi con il tasso di positività al 24%, due i pazienti dimessi, mentre i guariti sono 54, i ricoverati al Cardarelli 9 persone, mentre gli attualmente positivi in regione 4.789. Parliamo ora del progetto di riqualificazione del Castello Monforte di Campobasso, perché è scoppiata una polemica all'ordine degli architetti e accusa infatti l'amministrazione comunale per il mancato coinvolgimento all'atto della stesura del piano di recupero del maniero. il sindaco Gravina ribatte, sono stupito da queste uscite scomposte. Il servizio è ancora di Anna Maria Di Matteo. Il sindaco Gravina e l'assessore alla cultura felice finiscono nella bufera a causa della dura presa di posizione assunta dall'ordine degli architetti della provincia di Campobasso nei loro confronti subito dopo la presentazione del progetto di riqualificazione del Castello Monforte avvenuta in un affollato incontro che si è svolto qualche giorno fa al Circolo Sannitico. Per gli architetti sono mancati dialogo, partecipazione, coinvolgimento e confronto. Si tratta di un intervento strategico e su un bene vincolato che per tipologia e importanza rientra nelle competenze esclusive dell'architetto, ha spiegato il presidente Alessandro Itzi. Sarebbe stato opportuno e quantomeno necessario informare e coinvolgere l'ordine professionale che rappresento per promuovere un dibattito pubblico e una interlocuzione propositiva su un tema di tale rilevanza. In questi primi 18 mesi di mandato, ha proseguito Itzi, abbiamo sempre manifestato la piena disponibilità a collaborare con l'amministrazione comunale, ma la nostra disponibilità non è stata considerata, visto che anche in occasione della riqualificazione di un importante simbolo del capoluogo, come il Castello Monforte, è mancata la volontà di interloquire con noi, ha concluso Itzi. A stretto giro, la replica del sindaco Gravina, che si è letto stupito dell'uscita definita scomposta del presidente dell'ordine, precisando come non ci sia alcuna forma di avversione nei suoi confronti. Tengo a precisare che la progettazione dei lavori al Castello Monforte è stata affidata dal comune con convenzione alla sovrintendenza del Molise, che a sua volta si è rivolta a colleghi architetti dello stesso Itzi, che dunque appartengono allo stesso ordine. Quanto espresso dal presidente, ha concluso il sindaco, non ci impedirà tuttavia di continuare a collaborare con l'ordine tutte le volte che ce ne sarà bisogno, considerandolo un interlocutore privilegiato. I carabinieri di Larino hanno arrestato un uomo con precedenti che da mesi minacciava, aggrediva e chiedeva soldi a due giovani. L'uomo, durante una discussione con i due ragazzi, aveva chiesto mille euro e li aveva accusati di aver offeso suo figlio. In quell'occasione aveva picchiato i ragazzi, procurando loro diverse ferite e costringendoli a dare denaro. Una situazione andata avanti per mesi e che i ragazzi non avevano denunciato per paura. L'ultima volta l'uomo si è recato sotto casa di uno dei due, chiedendo ancora soldi e minacciandolo con un coltello. I giovani a questo punto hanno trovato la forza di rivolgersi ai carabinieri. Grazie alla descrizione dei fatti, l'uomo è stato individuato e segnalato alla procura di Larino e i soldi sono stati riconsegnati. E in seguito a un'indagine complessa condotta dalla Guardia di Finanza di Termoli, un uomo di cui non sono state fornite le generalità è stato denunciato con l'accusa di aver nascosto un tesoro di reperti archeologici risalenti al VI e III secolo avanti Cristo. Il servizio è di Francesca Danversa. Due vasi ornamentali dipinti a mano e poi un'altra ventina di piccoli oggetti, tutti fatti a mano, che gli esperti hanno fatto risalire tra il VI e il III secolo avanti Cristo. Pensava di averla fatta franca, l'uomo, un cinquantenne del basso Molise che avrebbe agito su commissione per conto di un collezionista, che aveva trafugato e nascosto i reperti archeologici ma è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza. Ceramiche di Apula, Dauni ed Ignazia di grandissimo pregio artistico e anche di un consistente valore economico, che secondo la soprintendenza archeologica avrebbe fruttato molti soldi se immessi sul mercato clandestino internazionale. Le indagini della Guardia di Finanza di Termoli hanno condotto i baschi verdi fino al responsabile del furto. L'uomo è stato denunciato alla procura di Larino e a breve verrà processato. Il sequestro di pezzi archeologici in Italia o all'estero, hanno spiegato dalla Guardia di Finanza, assume un elevato valore sociale, perché in questo modo, hanno aggiunto le fiamme gialle, viene restituita alla collettività una ricchezza storica e culturale. Sempre più spesso anche la criminalità organizzata allunga le mani sui beni archeologici considerati una vera e propria fonte di investimento. L'attività di servizio, controllo economico del territorio e il contrasto ai traffici illeciti da parte della Guardia di Finanza continua ad essere l'obiettivo principale del corpo in sinergia con l'autorità giudiziaria. Tutelare il patrimonio storico archeologico significa anche salvaguardare uno dei simboli dell'Italia nel mondo. E restiamo in tema di reperti archeologici perché una pietra votiva, probabilmente di origine cartaginese e dedicata alla Dea Celestis, è stata rinvenuta a fonte del Duca sul tratturello Castel del Giudice Sprondasino. In Agro di Agnone si tratta di un'eccezionale scoperta archeologica che renderebbe il Molise unico nel sud d'Italia dal momento che simili reperti non sono stati finora ritrovati se non a Roma. Ce ne parla ancora Valeria Migliore. Un'importante scoperta archeologica, quella che Remo De Ciocchis, studioso della tavola osca e l'architetto Alfredo Carlo Magno hanno fatto in una masseria a fonte del Duca nell'Agro Agnonese. Si tratta di un ex voto plantepedum rinvenuto sul tratturello Castel del Giudice Sprondasino che collega due importanti tratturi, la teleta Fiume Biferno e il Celano Foggia. Quella della pietra votiva, probabilmente di origine cartaginese e dedicata alla Dea Celestis, è una scoperta archeologica eccezionale che renderebbe il Molise unico nel sud d'Italia dal momento che simili reperti sono stati ritrovati finora solo nella capitale. Sembra infatti, afferma il professor Remo De Ciocchis, che questi ex voto plantepeda si trovino soprattutto in Spagna, ma qualcuno è stato rinvenuto anche a Roma, dove era dedicato alla Dea Celestis, che detiene l'equilibrio divino della giustizia. Sul ritrovamento la soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise mantiene massimo riservo. La scoperta è ancora al vaglio degli esperti che continuano gli studi sulla verifica del reperto. L'intenzione sarebbe ovviamente quella di recuperarlo. L'organico dei pediatri in servizio nelle strutture dell'azienda sanitaria regionale aumenta di ben sei unità. Dopo le recenti polemiche sul rifiuto generalizzato a presentarsi ai concorsi emessi dalla ASREM, questa sembrerebbe un'inversione di tendenza. Su 23 candidati ammessi alla procedura concorsuale si sono presentati solo sei, comunque i sei assunti che sono meno della metà dei necessari. La ASREM aveva indetto un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di ben 15 pediatri. In una nota inviata ai sindaci, l'azienda Molise Acque comunica una riduzione del flusso idrico nei prossimi giorni in 11 comuni del Basso Molise. Tale riduzione si rende necessaria per consentire la sostituzione delle valvole sia dell'acquedotto liscione che del molisano centrale. Ma sentiamo tutti i dettagli ancora con Francesca D'Ambersa. Acqua a singhiozzo da oggi fino al 27 ottobre in 11 comuni del Basso Molise, Termoli, Larino, Ururi, San Martino in Pensi di Sporto Cannone, Campo Marino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni. Una riduzione del 35-40% a Guardia Alfiera dalle prime ore del mattino è stata predisposta la sospensione del flusso idrico dell'acquedotto molisano centrale. Lo fa sapere in una nota inviata ai sindaci dei comuni interessati, l'azienda Molise Acque. Il motivo dell'interruzione è la sostituzione di alcune valvole dell'acquedotto Basso Molise-Liscione e al molisano centrale. Nella nota l'azienda invita i comuni ad assumere necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità. L'invito dei sindaci è quello di usare l'acqua solo per uso domestico, per evitare fastidiose chiusure notturne, ha detto il primo cittadino di Petacciato, Roberto Di Pardo. Il servizio, ha precisato l'azienda, dovrebbe tornare regolare nella giornata del 28 ottobre. E ora andiamo a San Giuliano di Puglia perché sono cominciati gli eventi che fanno da contorno alla cerimonia di commemorazione del ventennale del terremoto. Tra questi la due giorni organizzata dall'associazione Best Stage c'era per noi Giuseppe Carriera. La natura conserva inevitabile memoria di ciò che accade e nonostante tutto evolve e torna a fiorire. Da rapporto con la natura l'uomo può trovare nuovi spunti per reagire a momenti drammatici e netti. Così anche una tragedia come quella del Vaillon trova nella sua trasposizione in opera teatrale nuovi riflessi di speranza e torna simbolicamente con uno spettacolo unico nella sua forma nel Palazzetto dello Sport di San Giuliano di Puglia. Sì, la speranza importante c'è. Esiste la tragedia, è giusto raccontarla, è giusto che non perdiamo la memoria, ma è giusto anche raccontare tutte le cose straordinariamente belle che attengono proprio al cuore delle persone, alla forza, all'orgoglio, al senso di riscatto che esiste anche in questa terra. Come anche in tutte le terre che hanno subito è una tragedia simile con lo scempio dell'avidità umana, ma anche con la straordinaria forza di chi è in grado, come le persone comuni, come la gente che siamo, di potersi appunto riscattare e risollevarsi. Lo spettacolo, che sarà proposto anche il 29 e 30 ottobre al Savoia di Campobasso, è in una formula rinnovata rispetto alla stesura originale. Riferimenti all'Aquila e Rigopiano si aggiungono a una ricostruzione puntuale, ma offerta con ritmo, dei fatti del Vaillon. A San Giuliano di Puglia è stato possibile vivere momenti di conoscenza del territorio, di uno splendido borgo, con approfondimenti storici, architettonici e artistici e focus su luoghi particolarmente importanti, come il Palazzo Marchesale, la Torre Saracena e la Chiesa di San Giuliano Martire. Questo evento San Giuliano subito l'ha accolto, appena l'ara carissima, mentre Ortis me l'hanno proposto, San Giuliano subito è stato pronta ad abbracciare questo progetto, soprattutto a far vedere e valorizzare il borgo di San Giuliano, che è un borgo che non ha nulla da invidiare ai borghi più blasonati italiani. Alla scoperta di un borgo straordinariamente bello, ben ricostruito, ricco proprio di storia, di cultura. Questo è stato un progetto finanziato con il Bando Turismo e Cultura, un progetto che volge proprio alla valorizzazione dei beni culturali del nostro territorio, di questo territorio. L'occasione dei venti anni poi coincide con questo progetto e la visita straordinariamente attenta e partecipata di tanta gente dice che questo è un elemento straordinario di valorizzazione. Ed entrano nel vivo le attività del nuovo Centro Aggregazione Giovanile dell'Associazione Genitori di Sant'Elia Pianisi, un progetto ambizioso che mira a costruire una rete di comunicazione tra i giovani della zona, mettendo a loro disposizione una redazione per valorizzare il territorio e promuovere coinvolgenti iniziative, Giuseppe Carriera ha seguito la conferenza di presentazione delle attività già svolte e di quelle in programma. Volontari che si mettono in gioco e offrono le loro competenze e il loro tempo per permettere ai ragazzi di vivere un presente coinvolgente e costruire un futuro migliore. Accade a Sant'Elia Pianisi, dove l'Associazione Genitori ha presentato un nuovo progetto da attuare in un centro di aggregazione giovanile, Maria Saveria Reale, cura la programmazione e il coordinamento dei diversi progetti attuati nel corso del tempo. È un progetto appunto Centro Aggregazione Giovanile che vuole segnare una svolta dopo questo periodo della pandemia che ha un po' compromesso e peggiorato i rapporti sociali sia per gli adulti che per i giovani e i ragazzi. Quindi l'idea di offrire loro un'opportunità di crescita, di confronto ma anche uno spunto come attività alternative durante il tempo libero per valorizzare il territorio e per dare il via ad iniziative che possono dare delle prospettive future a questi ragazzi che naturalmente durante il periodo del lockdown hanno sofferto particolarmente in questa fase delicata della crescita. Angela Bordi, presidente dell'Associazione, spiega i motivi alla base della sua nascita e di un impegno costante nel tempo. L'Associazione dei Genitori nasce a seguito della perdita di una nostra carissima amica, mamma di tre bambini. Da qui l'esigenza di costituirci per aiutare soprattutto i bambini nel percorso scolastico ma poi di allargare a chi ne avesse bisogno e devo dire che abbiamo raggiunto sempre tanti risultati perché abbiamo avuto intere scolaresche che abbiamo seguito durante le ore pomeridiane. Poi da qui anche i progetti. Il fiore all'occhiello della nostra associazione è stato il progetto per la prevenzione dell'ascolismo minorile perché qui siamo riusciti ad entrare con gli esperti nelle scuole per cercare di sensibilizzare i ragazzi alla grave problematica. Presente alla conferenza il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino, che ha spiegato ai ragazzi le nozioni alla base della nascita di una redazione giovanile per realizzare con i fondi del volontariato un sito internet e una rivista, sia online che stampata, che parla di loro, del territorio di quattro comuni del fortore. Ora tocca a questi giovani colleghi in erba vivere e raccontare al meglio il loro paese, la loro gioventù. Era l'ultimo servizio, siamo in chiusura, ma vi ricordo prima l'inaugurazione al Museo Sannitico di Campobasso della mostra Paesaggio Pentro e Mura Poligonali, prevista per mercoledì alle 17, un'occasione per conoscere attraverso pannelli e reperti le cinte sannitiche e uno sguardo sulle cinte con mura ad opera poligonale nelle regioni vicine. Alla mostra organizzata dalla Direzione Regionale Musei e della Sovrintendenza archeologica Belle Arti hanno collaborato anche le sovrintendenze di Caserta, Benevento, Frosinone e Latina. L'apertura, lo ripeto, è prevista mercoledì alle 17. Termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale. Vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise. Buonanotte.